Buonasera amici e amiche di Nova News 24. Piccolo incidente hot nel corso della diretta video della semifinale dell'Isola dei Famosi 2024, protagonista Matilde Brandi durante un duello contro Alvina valido sia per il televoto flash che per la rosa dei finalisti di questa edizione. La sfida sembrava procedere per il meglio e con discreto equilibrio ma ad un certo punto è stata proprio Vladimir Luxuri a distrarre Matilde Brandi dalla gara per attenzionare l'incidente hot. Edoardo Stoppa sceglie di fare sfidare le due donne per prima, nella prova di forza. Questa scelta non viene condivisa da nessuno, Vladimir Luxuri è in primis che lo ripete più e più volte, ma alla fine dopo tutto quello che succede al televoto finiscono Samuel Peron e Matilde Brandi. Chi la spunterà? Amici e amiche se vi è piaciuto l'articolo, mettete il pollice in su diteci cosa ne pensate e seguiteci sempre su Nova News 24.